Ma, ragazzi, sono vestita di verde. È un problema? Tranquilla, tranquilla, non è un problema. Batti le mani e poi ci pensiamo noi. Sicura? Sì, sì. Ok, ora sono a posto. Benvenuta. Grazie. Partiamo con le domande semplici. Nome? Francesca. Quest'estate? Mare o Montagna? Montagna. Non vedi loro, immagino. Sì. Di cosa ti occupi in Banca Mediolanum? Lavoro allo sportello di sede. Vuoi dirmi che nel 2024 esistono ancora sportelli? E non sai quanto siano importanti, anche nell'era digitale. Quindi, la tua sessione bancaria? Guardare le cassiere mentre contano i soldi alla cassa. Scherzo, non lo faccio sempre. Ma, sono soldi finti? Esatto. E dovrei contarli veloce come fanno nei film. Non posso farlo. Devono essere a favore di camera. In che senso a favore di camera? Spiegami un po'. Devo appoggiarli e permettere al cliente e alle telecamere di contarli insieme a me. Quindi, la tua meta per le vacanze quest'estate l'hai decisa in base agli sportelli bancari? No, vado tranquilla. Ho virtualizzato le carte. Quindi, non li usi con tanti? Li uso, ma se ho bisogno utilizzo lo sportello oppure Munei. Ne ho sentito parlare. Come funziona? Ti permette di prelevare, ma anche di versare contanti sul tuo conto corrente utilizzando gli esercenti abilitati Munei. Ma quali sono gli esercenti Munei? Sono su tutto il territorio nazionale e sono bar e tabacchi. Sembra molto semplice. Spiegami un po' come funziona. Sì, ragazzi, me lo proiettate? Devi entrare sull'app Mediolanum, cliccare su prelevo e versamento e sul logo Munei. E finito? Quasi. Ti basterà inserire poi l'importo e in automatico si genera un QR code che devi mostrare all'esercenti insieme al tuo documento di identità e del tuo codice fiscale. Fino a quanto posso prelevare? Adesso mi chiedi troppo. Vai sul sito e trovi tutte le informazioni. Intanto sto provando ad entrare nell'app usando la biometria, ma non lo so, c'è qualcosa che non mi torna. Qua chiediamo all'esperto. Greg, Chiara ha bisogno di te. Finisco di aggiornare l'app e scendo. Vabbè, allora seguiteci per la parte 4. Grazie. Grazie ragazzi.